Come diceva Pasquale, questo incontro è nato su un problema specifico che è sull'interlocutore. È nato perché si avvertiva l'esigenza di avere un interlocutore un po' più grande della famiglia e che fosse meno del comune. Ovviamente il condominio rappresenta questo tipo di interlocutore. Io penso che è un'interlocutore che dovrà continuare in un solo sul problema specifico. Cioè l'importanza proprio della figura dell'amministratore del condominio, per esempio l'amministrazione, che giustamente Pasquale ha condivido molto, definì oggi per il condominio, questo è fondamentalmente questo, diventa un'interlocutore necessaria su tutta una serie di problemi che noi abbiamo sentito. La nostra è un'amministrazione che come Enzo ha presentato, vuole cercare di mettere in mano tra virgolette, tutta una serie di problemi che ci sono e trasciniamo da anni e che probabilmente non trovano ancora la veruta soluzione. Sul caso specifico noi abbiamo una necessità, questo ne parlavo anche con Pasquale, intanto, e con il sindaco prima ancora, la necessità di un controllo del territorio che conviene ovviamente al comune, con delle risorse umane che sono ovviamente... sono poche cose che guidano Pasquale, questa è in base qui, vediamo... Non fa tanto, dai, perdone... Ma io non mi sono in base qui, non mi sono in base qui, non mi sono in base qui, non mi sono in base qui... Ma io non mi sono in base qui, non mi sono in base qui... Non mi sono in base qui, non mi sono in base qui... Che già è un po' più, perché questo è rilascioso, più terreno della nuova traduzione. No, il punto qual'è che... Stiamo dicendo, quindi la necessità... di immaginare un controllo, perché poi il lavoro che assoriamente, guardate, è ectopil, è stato anche in un periodo dove c'era la difficoltà massima, questo risultato è stato pregiunto dopo il maturo che la società ha svolto in questi anni, che oggi è quello che è e che domani con lo stimolo che faceva dovrebbe essere ancora di più. Giusto per la cronica, l'assessore, ogni mattina, va a controllare se i camion svolgono le loro attività, e quindi a dimostrazione è in tre cose, la squadra di Girona c'è il posto, e la seconda è che evidentemente abbiamo scelto un assessore che mette l'anismo necessario di cui la politica ha bisogno, e trovando poi una scuola semplice di una gestione della società che come potete notare degnamente rappresentata da un uomo. Il punto quindi qual è? Le condizioni ci sono tutte per stare bene, purtroppo il cittadino ne è compreso fatto dal primo esempio, ovviamente deve essere anche educato a svolgere una serie di attività. Io faccio sempre l'esempio in banale, quando lavoravamo la telecamera vicino a sei mani su un po' tutti quanti, il russo non lo rispettavamo, perché andavamo un po' tutti dietro. Quando c'era la telecamera, è bello che non c'era dei primi verbali, anche se io con la telecamera ti faccio una convivenza, dovete fare, non c'è più, nessuno. Ecco, diciamo, il punto è che il programma è questionato, cosa facciamo? Ecco, 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 ecco ecco, 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 ecco e contrastare con il controllo del territorio il sistema di lavoro. Questo è quello che tocca fare nella politica, farlo in i tempi brevi, quello che tocca ancora fare nella politica è continuare questa interruzione con questo gruppo che a questo punto io consiglierei, lo dico perché so che già ci sono associazioni sul territorio, ma consiglierei proprio di trovare una interruzione su tutta una serie di problemi, perché io immagino che si può fare cominciare a fare un viaggio partecipato, immagino che noi dovremmo incominciare a discutere gli statuti e i regolamenti quando sono di interesse nella città, in sé nella città, per fare questo una semplificazione che è quella che abbiamo, realizzata. Ultima cosa che riguarda sempre la politica e poi passo la parola all'ingegnere Ritondo, noi dovremmo immaginare, io questo lo dicevo anche a Pasquale, insieme alla repressione, questo dovrà valutare poi il condottamento di attenzionato a un lancio, una forma di premialità, io dico che questo anche qua faccio una metafora che si è immediatamente complessibile, io vado a mettere la benzina all'aerso perché sono preso il punto, il punto lo manca e il costo a due euro, quindi è stato pagato due milioni e il metafora di bettino, se non si riescono a funzionare, però io vado a prendere il punto. Io penso che se noi riusciamo a creare le condizioni di una premialità del riscondominio generale, del riscondominio, questo ovviamente parliamo di un sistema che viene prima regolamentato, prima provato, prima studiato e poi alla fine, questo può essere diciamo che la cosa conclusiva, immaginare una forma di premio per quel condominio da parte di un quartiere che ha ottenuto una maggiore percentuale differente rispetto all'altro, una sala con coperto, una sala con petizio, che dovrebbe essere il giusto bilanciamento alla sanzione e alla repressione. Questo è quello che per me è diciamo la parte pulita, su quella tecnica, prima di passare la parola che ho deciso, farei il giro del caffè, è un'altra parte, è una cosa diciamo, è un'altra parte, è un'altra parte, è un'altra parte, è una parte che sta dedicando a metà.